Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, qui dal piccolo refettorio dei Frati Minori Cappuccini, accanto al posto di Padre Pio da Pietrelcina, oggi per raccontarvi la storia di Luigi Armellotti. Come ben sapete attraverso questo indirizzo di posta elettronica voi potete inviare tutte le vostre mail, le vostre testimonianze, i vostri racconti, come ad esempio ha fatto la nipote del professor Armellotti, Valentina, che salutiamo e ringraziamo. Ci ha inviato il testo che è stato realizzato da sua mamma, la figlia del professore, che ha raccolto tutti i suoi appunti, tutta la sua storia. Ci racconta proprio Annalisa Armellotti attraverso questo testo del papà, un insegnante di lettere, una carriera professionale, quando era molto giovane, tra le scuole elementari, le scuole medie, laurea in lettere e filosofia all'Università di Bari e ha voluto così raccontare la storia del papà, una storia intrisa di vere e proprie testimonianze accanto a San Pio da Pietrelcina. Qui abbiamo anche un articolo di giornale dove viene raccontato della pubblicazione di questo testo. Noi vogliamo raccontarvi un po', e lo faremo anche nelle prossime settimane, alcuni aneddoti veramente particolari del professor Armellotti. Un giorno racconta che per potersi confessare da padre Pio bisognava prenotare e quindi attendere il proprio turno che capitava dopo circa una settimana. Proprio nel frattempo si stava vicino al padre, racconta, per pregare e meditare sulla propria condotta. Un tempo certamente utile, scriveva il professor Armellotti, perché una settimana era importante soprattutto per potersi preparare alla confessione. Lui veniva dalla vicina Sansevero. Quel giorno arrivò il suo turno. Quella mattina il frate, ha detto al servizio, mi fece restare nella fila di quanti si sarebbero confessati quel giorno. Attesi, poi finalmente arrivò il mio turno, tanto desiderato. Il penitente che era inginocchiato davanti al padre, ricevuto l'assolazione, si era lanzato. Allora io feci qualche passo avanti, mi avvicinai, ma a questo punto padre Pio si alzò e se ne andò. Figurarsi la mia delusione, scrive il professor Armellotti, pazienza, mi dissi domani sarò il primo a confessarmi. La mattina successiva nel mettermi in fila mi ritrovai con quattro, cinque persone davanti. Seppi poi che i sacerdoti che si trovavano in necessità avevano giustamente la precedenza, quindi di nuovo attesi, fiducioso, poiché erano poche le persone che mi precedevano, quindi attesi ancora più con tanto entusiasmo, si ripete però la storia del giorno precedente. Stavo per avvicinarmi a padre Pio, questi si alza e se ne va. La mia delusione diventò una vera e propria sofferenza. Mi sfogai, muovendomi nervosamente per tutta la chiesa, ripetendo a me stesso di non volerne più sapere di padre Pio e che avrei fatto volentieri il ritorno a casa. Successe però che i pensieri bellicosi sbollirono pian piano e io mi disposi ad accettare però quella situazione, non c'era nient'altro da fare, bisognava accettare. Mi conveniva attendere un altro giorno, anche perché il di più era stato fatto. Ero stato lontano da casa, già da più di una settimana, buttare tutto all'aria sembrava insensato. Il giorno dopo arrivò. Ebbe appena il tempo di inginocchiarmi e subito padre Pio mi disse, ma perché ti sei arrabbiato? Sappi che la rabbia non fa bene a nessuno. E in quel momento, scrive il professore Ammerlotti, durante la mia confessione mi tenne quasi una lezione sulla rabbia, su questa alterazione non nobile dello spirito, della quale stranamente io non ricordo nulla, ma mi servì e come. Perché da quel giorno, scrive il professore Ammerlotti, cambiai stile di vita, divenni più tollerante nei riguardi del prossimo, più calmo nell'affrontare le situazioni di ogni giorno.